Ok, ti prendi la tua maglia e torni al cento palco che ti devo parlare. Mi date la grafica per cortesia? Oddio! Ti ho fatto una sorpresa? Allora, le mie colleghe dicono che ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, io me le sono prese, la maglia è tua e sei al serale. Grazie! Wow! Oddio! 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 Grazie a tutti